I bambini sono nella cameretta, nel silenzio e che già ancora il loro sfogo. Mea, che silenzio. Mea, che silenzio. Mea, che silenzio. E quando vedeva la tua testa diceva, Giasone mima le parole, non si è lavato i denti. Giasone fa rimbalzare lontano la palla di malagrazia. Gias, perché eravamo morti? Perché era successo così? Non lo so. Era stato quando la mamma si era arrabbiata e aveva fatto una magia. Grazie Federica. Come sempre apriamo questo ciclo di webinar con un piccolo brano tratto dal libro, dal testo, I figli di Medea, di Susan Osten e per Lisander, che ormai direi abbiamo trattato in tutti i suoi aspetti. Questo è l'ultimo incontro sul libro, sul testo, dopo aver incontrato gli editori, dopo aver incontrato Susan Osten, i traduttori, l'avvocatessa Rebecca Rigon che ci ha raccontato la situazione dei minori oggi in caso di separazione, quindi come gli abbiamo fatto un affondo sul tema, oggi incontriamo Sotera Fornaro e Federico Diamanti. Sotera Fornaro è una studiosa di tragedia greca, una grecista, leggo brevemente la sua biografia. Sotera Fornaro si è formata a Bari, dove si è laureata in letteratura greca nel 1986, ha poi conseguito nella stessa università il dottorato di ricerca in filologia classica e presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San Marino il dottorato in storia. Ha avuto contratti di ricerca presso le università di Basel e Heidelberg, è stata borsista della Fondazione Von Humboldt ad Heidelberg, Friburg e Berlino. Attualmente è professore associato di letteratura greca presso l'Università di Sassari e inoltre traduttrice, curatrice editoriale e responsabile scientifica del blog Visioni del Tragico, la tragedia greca sulla scena del ventunesimo secolo. Insieme a lei oggi torna Federico Diamanti, che l'abbiamo già ospitato per parlare delle traduzioni fatte direttamente dal greco nel testo. Federico Diamanti, giovanissimo, classe 1996, laureato in filologia classica per l'Università di Bologna, laureato in italianistica, allievo della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna. Ecco, dopo il percorso che abbiamo fatto, appunto, di cui dicevo prima, oggi invece affrontiamo il tema della tragedia greca e di come questa può essere riletta, riscritta dal punto di vista dell'infanzia, come quello che ha fatto Susan Austin e lo facciamo, appunto, con due persone esperte di tragedia. Io a questo punto lascio la parola a Federica per le prime domande e iniziamo. Grazie Cira, non so, sento la voce salta un po', spero che le persone che ci stanno ascoltando ci sentano bene. Federico è tornato, appunto, avendo tradotto le parti dal greco, ritradotto le parti citate dal greco nella tragedia di Susan Austin e Perlisander, ha vissuto proprio nel lavoro questo rapporto tra l'antico e un testo comunque contemporaneo. Sottera Fornaro è la responsabile scientifica di questo blog interessantissimo che osserva la tragedia greca sulla scena del ventunesimo secolo. Ecco, per questo, questo confronto, questo incontro e questa chiacchierata con voi come relatori. Partirei proprio da prima, dai figli di Medea, facendo un discorso più largo. Quindi si può dare la tragedia ai bambini, agli adolescenti, il mito e i testi della tragedia? Se sì, in che modo? Basta tradurre questi testi e portarglieli? Vanno riscritti, ripensati, adattati e possono dialogare con le forme di narrazione che i bambini e gli adolescenti conoscono, le forme di narrazione contemporanee e quelle a cui magari certe età sono più vicine. Vi lascio con questa domanda. Sottera, hai il microfono spento? Hai il microfono spento? Sì, 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 ecco, sì, ok. Grazie, comincio io? Posso cominciare io? Va bene, su. Bisogna cedere il passo agli anziani, dai. Allora, grazie, mi fa molto piacere partecipare a questa chiacchierata con un'amica di vecchissima data, condividiamo la comune origine pugliese, ma soprattutto veniamo dallo stesso paese, con persone che tanto fanno per la diffusione della tragedia e del teatro classico, ma io direi della cultura che noi chiamiamo classica, in strati della scolarizzazione, in cui in realtà questa non è tanto diffusa, perché normalmente, e io insegno all'università greco, per qualche anno ho anche insegnato al liceo classico, ecco, lo studio del greco, del latino, della cultura classica è riservato a persone un po' più adulte, no? Che fanno il liceo classico, il ginnasio, e poi per chi vuole, a coloro che si scrivono appunto in lettere, come il percorso che insomma ho fatto io, ha fatto Federico. E sebbene noi viviamo in una nazione che sia intrisa di cultura classica, in cui ripetiamo anche in maniera molto, spesso molto retorica, molto stanca, che nella cultura classica, cioè nella cultura greca e latina, ci sono le radici della nostra maniera di pensare, della nostra maniera di sentire, ci sono anche le radici del nostro immaginario, in realtà la conoscenza della cultura classica, che un tempo era sicuramente molto più estesa negli ultimi anni, con la professionalizzazione in generale della scuola, si è molto ristretta, il che crea tra l'altro anche dei paradossi, cioè soprattutto il fatto che l'attività teatrale, non parlo dell'attività teatrale dei ragazzi, ma l'attività teatrale in generale, è legata ai generi e alle forme del teatro classico e i motivi della cultura classica, le grandi figure del mito, ricorrono in continuazione, non nella nostra maniera di parlare, di pensare, ricorrono anche nella grande cultura pop, nella cultura dei media, ma in realtà una conoscenza più profonda di questa cultura continua a diventare quasi sempre più un privilegio e questo ha anche a che vedere con il fatto, siccome penso di rivolgermi ad un pubblico di colleghi che insegnano nelle scuole, certo questo ha a che vedere con il fatto che la società sicuramente adesso ha bisogno di professionalità, che mal si conciliano con uno studio pesante di tipo linguistico soprattutto del greco e del latino, ma questo ha anche a che vedere con il fatto che il liceo classico storicamente è sempre stato la scuola delle élite, la scuola della borghesia, non è stata la scuola degli stati popolari. Quindi questo un po' come premessa, il lavoro che Federica Iacobelli fa insieme a questa casa editrice Primavera, che mi ha fatto conoscere lei, è stupendo, perché nel catalogo di questa casa editrice ci sono delle opere contemporanee destinate al teatro di ragazzi che però hanno il coraggio di proporre questi grandi temi, nel caso della Medea, e c'è anche un'Elettra, dei temi tragici che per tutti sono, tranne che per bambini, cioè nel senso l'argomento non è adatto ai bambini. Io non voglio appunto monopolizzare, voglio soltanto dire che comunque la domanda che è fatta da Federica è una domanda molto difficile, ma è una domanda già antica. Noi sappiamo che le grandi tragedie greche, ce ne sono rimaste pochissime rispetto alle tante che sono state scritte, sono solo 32 in tutto, in realtà sono la messa in scena di racconti che sono preesistenti agli autori, cioè quando noi parliamo di Antigone, di Edipo, di Medea appunto, di Fedra, noi parliamo di grandi figure che non sono state inventate dagli scrittori di teatro, ma che erano conosciute ed erano conosciute dal pubblico già prima. Ora, questo è molto importante, cioè c'è una divisione tra quella che è la tragedia e quello che invece è il mito che è alla base di queste tragedie. Perché questo, rispetto alla domanda che ha fatto Federica, è importante? Perché sin dall'antichità c'era questa grande domanda, ma questi racconti sono adatti ai bambini? Se qualcuno di voi ha fatto il liceo classico, Federico certamente, ovviamente se lo ricorda, ricorderà che uno tra, un grande filosofo, Platone, lanciò un atto d'accusa molto forte contro il racconto dei miti e contro il fatto che questi miti fossero alla base dell'educazione. Perché quelli che per noi sono favole, in realtà, nella cultura greca, avevano un significato pedagogico molto più importante, cioè rappresentavano quella che è l'enciclopedia, c'è uno studioso che ha usato questo termine molto significativo, l'enciclopedia tribale, cioè una raccolta di racconti in cui tutta la comunità si riconosceva e riconosceva il proprio passato. Questo in realtà, ecco, prima accennavo al fatto che io e Cira veniamo dallo stesso paese in Puglia, da Grottaglie, io e lei abbiamo in comune, anche se non ci vediamo da oltre 30 anni, un patrimonio di figure, di leggende, di convinzioni, anche di pregiudizi in fondo, che ci vengono dalla comune origine. Ora, il mito è proprio la trasposizione in forma narrativa di quello che caratterizza l'identità di una comunità. Ora, Platone era molto arrabbiato dal fatto che le balie, che le mamme, che le nonne raccontassero ai bambini questi miti, perché i miti greci, non solamente quelli tragici, ma anche quelli tragici, non sono appunto, come si potrebbe dire oggi, non sono proprio adatti ai bambini, perché sono miti cruenti, sono miti splatter, sono miti in cui ci sono i figli che uccidono i genitori, sono cruentissimi, raccontano dei crimini più impensabili che possano prendere la natura umana. Ecco, un filosofo come Platone lanciò questa grande accusa contro tutti coloro che raccontavano i miti perché rendevano i bambini paurosi, perché erano miti diseducativi, ma chi è che raccontava i miti nella cultura greca? Certo, le balie, le nonne, le mamme, così un po' come si raccontavano un tempo Cappuccetto Rosso o Cenerentola, ma in realtà nella cultura greca i grandi trasmettitori dei miti, coloro che raccontano i miti a tutti, erano i poeti, a partire appunto dal poeta, per antonomasia con cui comincia la nostra letteratura e con cui comincia la cultura greca che è Omero. Quindi l'atto di accusa di Platone era contro l'uso pedagogico della poesia nella scuola e contro l'uso del teatro greco in senso educativo. Quindi per essere sintetici, le tragedie greche sono per i bambini? No, le tragedie greche non erano pensate per i bambini ma è il concetto di bambino che probabilmente è quello su cui dobbiamo discutere per capire invece perché noi possiamo e dobbiamo anzi, almeno dal mio punto di vista, utilizzare la tragedia greca per i bambini. Direi che adesso per ora mi fermo, magari appunto così do spazio a Federico. Rispondo subito Federica se sei d'accordo o se vuoi. Certo, sì, sì, sì. Perfetto. Beh, intanto buonasera a tutti e grazie. Grazie a chi ci ospita, grazie a Cira, grazie all'Interregionale Teatri del Friuli Venezia Giulia e poi un grazie particolare visto che questo è poi l'ultimo incontro almeno per me di questo percorso a Federica Iacobelli perché insomma chi ha seguito tutti questi incontri lo sa però ci tengo anche a ridirlo qui. Questo diciamo è un capitolo di un percorso che è stato a tutti gli effetti un percorso per me di formazione ampio, lungo che è durato più di un anno che è passato attraverso la traduzione certo è un lavoro a due voci con Laura Cangemi che mi fa piacere e ho per certi aspetti il dovere di ricordare qui ma poi di discussione ampia sul testo a partire dal mese di giugno dell'anno scorso per arrivare a questo ciclo. Quindi concludiamo per lo meno io concludo in bellezza questo percorso che davvero è stato per me fonte di crescita e di formazione dunque il ringraziamento è speciale ed è particolare. Io non mi sento di aggiungere molto al quadro direi completissimo ancorché sintetico della professoressa Fornaro che peraltro è un'esperta nazionale internazionale di questi temi le mie parole in questo senso a corredo sarebbero di sicuro ridondanti e meno precise delle sue. Alcune cose però penso di poterle dire proprio in premessa magari facendo un passettino in più rispetto alla risposta che ci è già stata fornita. La risposta che ci è già stata fornita è una risposta che affonda le radici in una storia ormai secolare di studi attorno alla tragedia alla ricezione della tragedia che vorrei ricordarlo si è salvata in una parzialità estrema non solo di numeri di tragedie che noi possiamo leggere le 32 citate non solo di numeri di frammenti che noi possiamo leggere ma anche questa secondo me è una cosa straordinaria di secolo e connotazione geografica perché noi abbiamo la tragedia per lo più di quinto secolo ateniese c'è dibattito su quanto possa essersi estesa oltre Atene quanto nei secoli possa essere cambiata la tragedia e poi in particolare la commedia però noi abbiamo preservata dai filologi bizantini e poi dalle fortunose vicende del nostro umanesimo e del nostro rinascimento fino alla stampa una parte esclusiva e di un solo settore sia geografico sia temporale sia tematico e in particolare di tre autori della tragedia greca e quindi questo penso sia sempre importante farlo notare come penso sia sempre importante far notare lo ha fatto la professoressa prima di me il fatto che noi vediamo noi leggiamo e poi vediamo eventualmente in riproposizioni teatrali delle tragedie che sono a loro volta scelte autoriali e drammaturgiche di registi tra virgolette che intervengono su un mito che c'è già che è consolidato è evidente che l'attacco platonico è nei confronti del teatro perché poi c'è anche una dialettica con la commedia tutta particolare tra Platone in particolare Aristofane ma è soprattutto nei confronti del mito dove originano le scelte che poi annualmente vengono riproposte e rimesse in scena quindi e questa è una cosa che mi stupì a partire da un esperimento che ci tengo a raccontare anche perché questo impegno sulla tragedia della quale peraltro io non mi sono mai occupato tra virgolette scientificamente ma sempre un po' per passione nasce dai tempi del liceo e proprio al liceo io ho deciso di fare una delle cose forse più classiche visto che avevamo un istituto che permetteva ogni tanto delle lezioni gestite da studenti o da gruppi di studenti che si possano fare per la ricezione della tragedia in Italia del novecento ovvero proiettare l'edipo di Pasolini e una cosa che con altri ragazzi insomma ci temi a dire perché avevamo una professoressa che è la professoressa Donatella Iacondini che tra l'altro forse ci segue che aveva insistito molto su questo tema era proprio questo cioè le scelte di Pasolini ma ancora prima di Sofocle sono scelte all'interno di un mito che ha delle varianti e in seno a quella geografia molto particolare di varianti che è stata poi variamente ricostruita o non ricostruita Sofocle sceglie altri tragediografi che non si sono conservati hanno scelto e poi Pasolini ritaglia diciamo la sua la sua la sua narrazione dunque stanti questi due grossi grandi temi ovvero l'esclusività da un certo punto di vista della tragedia e l'inserirsi di questa esclusività che peraltro si come dire si connotava come fenomeno civico civico religioso e agonale e agonistico si dice nelle spiegazioni anche anche scolastiche e quindi come fenomeno che era posto di fronte a tutta la città c'è una storia nuova che nasce e questa storia nuova arriva fino alla nostra Medea per certi aspetti passando per una storia di ricezione molto ampia molto lunga e molto complessa e dunque dal no diciamo molto netto di partenza sul fatto che la tragedia possa essere o meno adatta ai bambini si arriva ad esperimenti come il nostro su cui magari concludo su cui sicuramente non magari arriverò a parlare più nello specifico nel prossimo intervento che sembrano che sembrano dirci la tragedia greca così com'è forse no per i bambini e per i bambini di ogni tempo ciò che veicola il grande messaggio che ciascuna tragedia veicola le questioni che ciascuna tragedia veicola se riadattate con intelligenza assolutamente sì quindi come dire in una lunga storia che va secondo me vista per intero al di là degli articoli e degli studi specifici e specialistici sulla tragedia è una lunga storia che secondo me muta il nostro punto di vista e i figli di Medea in questo senso ma mi taccio e lascio la parola a Federica ci dimostrano come un lavoro complesso articolato laboratoriale e molto ragionato possa rendere anche la tragedia anche la tragedia greca e anche forse la più macabra delle tragedie greche un'esperienza per un pubblico diverso da quello per cui era stata pensata e per cui noi ce la immaginiamo grazie Federico Cira vuoi guarda io riprenderei intanto cioè devo dire che sono state messe sul tavolo tantissime cose per cui avrei tante domande tante domande sicuramente intanto ripartirei da quello che diceva prima Sotera come possiamo utilizzare la tragedia greca per i bambini e quindi ripartirei dalla stessa domanda che ha posto Sotera per poi come dire andare verso le forme del contemporaneo quindi come che è una delle cose che Sotera tra l'altro sta seguendo questo blog per cui ci racconta appunto gli allestimenti contemporanei della tragedia fatta di solito appunto da registi che comunque si rivolgono a un pubblico adulto ora nel pubblico del teatro ragazzi normalmente il mito è molto frequentato moltissimo ogni anno vengono prodotti secondo me sono anche forse la maggioranza degli spettacoli prodotti vanno dalla fiaba al mito però sono quasi sempre narrazioni quindi secondo me il discorso interessante dei figli di Medea che ha subito come dire è subito saltato all'occhio quando con Federica abbiamo deciso su quale testo lavorare per questa collana per me è stato interessante indicare i figli di Medea perché è uno dei pochi testi che prende un'altra forma cioè prende una forma teatrale di dialoghi con dei personaggi ed è una forma contemporanea quindi diciamo che da questo punto di vista mi interessa sapere intanto appunto come possiamo utilizzare la tragedia per i bambini e come possiamo questa tragedia cioè una volta che la utilizziamo per i bambini accompagnarla con i linguaggi contemporanei e so che questa cosa come dire nel teatro per gli adulti è molto frequentata ed è molto ed è molto è quasi scontata insomma si continuano a produrre le tragedie ma per l'infanzia come possiamo farlo? allora io non sono forse sicuramente io non sono competente rispetto a questa domanda che è una domanda cruciale nel senso che non sono una persona che fa teatro attivamente però però ecco studiando questa grande disciplina che appunto è quella della ricezione della letteratura antica nel contemporaneo e in questo quindi anche del dramma nella storia del teatro e nel dramma contemporaneo io posso fare qualche osservazione attenendomi poi tra l'altro appunto a questo bel testo che è stato splendidamente tradotto sia nella parte nella parte che non posso giudicare però posso giudicarne la leggibilità e la fluidità sia nella parte svedese che nella parte che ha a che vedere più direttamente con il testo greco allora dunque innanzitutto è parte del mito il fatto che il mito diventa sempre altro da se stesso cioè il mito nasce proprio come un materiale che va trasformato che si trasforma già soltanto il fatto che nasca naturalmente oralmente quindi come tradizione orale significa che in questa catena della tradizione chiunque racconti un mito ci aggiunge qualcosa toglie altro quindi il mito è materiale magmatico metamorfico le motivazioni dell'adattamento del mito si devono vedere nell'ambiente in chi lo sta recitando nelle motivazioni del perché si serve di questo mito per esprimere delle esigenze che corrispondono sempre però al presente cioè non è un caso che queste grandi figure mitologiche in realtà che sono lontanissime da noi in realtà sono lontanissime anche dal nostro immaginario però ricorrono in continuazione non si tratta io credo che questo bisogna sottolinearlo non si tratta di idealizzare queste figure cioè Medea Antigone Edipo non rappresentano la natura umana che poi bisognerebbe discutere a noi che cos'è la natura umana cioè qualcosa di superiore e quindi per questo rispecchiando quasi questa metafisica della natura umana ricorrono in tutte le epoche no il processo è molto molto più se volete molto meno ideale molto meno idealistico cioè si tratta di racconti che funzionano bene cioè che riescono ad esprimere proprio il plot no? come si dice con termini moderni la struttura del racconto riesce attraverso i secoli ad obbedire all'esigenza a piegarsi alle esigenze di chi sta raccontando per cui se voglio ecco perché un grande mito ad esempio come quello di Edipo è servito alla psicanalisi per coniare quello che è il più famoso complesso di cui tutti hanno sentito parlare anche chi non ha letto un verso della tragedia di Sofoque che è servita a Freud come base ma questo vale per tutti io sono negli ultimi anni mi sono occupata in particolare di Antigone la parola Antigone immediatamente fa venire in mente che so Ilaria Cucchi addirittura Greta come si chiamava Thunberg insomma oppure la Carola Racchete che è la capitana della comunque la rivoluzione contro il potere costituito ecco perché nel racconto proprio nel mito mutos significa in greco parola semplicemente c'è la possibilità di inserire di riempire di contenuti di correggerlo di cambiarlo di farne altro che è proprio insito nella natura stessa del racconto quindi questo non ci dobbiamo meravigliare di quello a Bologna i colleghi appunto che sono stati professori di Federico hanno da molti anni un centro che si chiama Permanenza del Classico che vuole esprimere proprio questo insomma e quindi il teatro non sfugge a questa a questa legge quindi se possiamo adattarlo ad un pubblico contemporaneo possiamo adattarlo ad un pubblico di bambini e l'operazione fatta ma questo dipende dal perché vogliamo farlo l'operazione che è stata fatta con i figli di Medea è un'operazione che corrisponde pienamente ai tempi in cui i due autori hanno preso questo mito e ne hanno fatto un laboratorio dalla parte dei bambini cioè catalizzando l'attenzione a quelli che sono in realtà poi i protagonisti di questo mito atroce che però nella tragedia greca sono una comparsa dal punto di vista strettamente teatrale poi si può discutere se lo sono veramente dal punto di vista contenutistico però dal punto di vista teatrale i bambini figli di Medea compaiono soltanto alla fine molto brevemente ma perché perché negli anni 70 l'ambito della sperimentazione della familiare pedagogica che poneva il bambino al centro dell'attenzione questo capovolgimento del mito faceva buon gioco e questo lo si può fare con tutto lo si può fare con qualsiasi racconto mitologico che ci è conosciuto per educazione per cultura perché noi europei è chiaro che se poi noi ci confrontiamo con una realtà multiculturale ecco lì questo me lo devono dire gli operatori del settore ci possono essere dei problemi un bambino del europeo sicuramente rispetto alla storia di Edipo rispetto alla storia di Medea rispetto alla storia di Antigone non ha un senso di estraneità ora è interessante notare e questo lo si nota nei laboratori di teatro magari non per bambini ma certamente per adolescenti e per adulti che questi miti funzionano anche in realtà culturali lontanissime da quelle occidentali perché funzionano benissimo ad esempio io ho un'amica in particolare che lavora molto in Burkina Faso e il laboratorio di questa scuola di teatro in Burkina Faso ha come oggetto i miti tragici greci quindi che cosa vuol dire che queste strutture sono talmente permeabili a quello che sta intorno e quindi permeabili al pubblico che deve fruirne oltre che a chi fa teatro che possono tranquillamente adattarsi cioè che il marchio idealistico di greco occidentale bianco per cui queste aberrazioni di tanto si legge sui giornali che si vogliono chiudere i dipartimenti di classics perché sono perché la letteratura classica sarebbe per maschi e non sarebbe non sarebbe appunto pluralista o politically correct è una sciocchezza assoluta perché non c'è niente di più permeabile ma non perché i greci erano dei geni semplicemente perché la struttura dei loro racconti è una struttura permanente nell'ambito della performatività umana ecco si possono aggiungere tante altre cose ma non voglio appunto monopolizzare magari parla un attimo Federico e poi ritorniamo su questo sul perché i bambini possono fare teatro greco ecco sì io non mi sento di aggiungere alcunché a proposito del quadro insomma che condivido appieno però vengo volentieri sui figli di Medea nel senso che mi pare che diciamo che siano maturi i tempi nel nostro incontro per fare proprio un cenno preliminare alla pièce in oggetto del nostro percorso perché e come riadattare per i bambini e dalla parte dei bambini una tragedia come quella di Medea sul perché io penso che la professoressa Fornaro abbia chiarito perfettamente il quadro anche sulla diciamo così genesi a proposito della quale Laura Cangemi ci ha detto molto nell'incontro precedente una genesi laboratoriale anch'essa diciamo così connotata in un decennio molto caldo non solo per la Svezia non solo per l'Italia direi per tutta Europa su tematiche come quelle su tematiche come quelle poi quella centrale no il riadattamento centrale del mito nei fili di Medea ovvero la separazione e la gestione diciamo così della 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 maternità e della maternità in sede di crisi matrimoniale di separazione io verrei più che altro al come secondo secondo me che insomma con Laura Cangemi ci ho ci ho lavorato e con Federica su cui abbiamo discusso questa operazione ha a nostro avviso successo e abbiamo insomma ritenuto grazie all'idea di Federica di renderla anche in italiano secondo me le strade adoperate al di là di quelle un po' più riferite alla pratica teatrale di messa in scena su cui magari vengono l'ultimo intervento sono tre i figli di Medea è un'operazione di ricezione e riproposizione del mito di Medea e della tragedia segnatamente Euripidea perché il dettato diciamo è assolutamente permeato da citazioni della Medea di Euripide per tre ragioni una prima è una tragedia che pone al vertice diciamo così dell'operazione drammaturgica letteraria e culturale sottesa una riflessione sul linguaggio cioè si prende il mito e poi mediante una riflessione profonda e laboratoriale linguistica si incardina il mito e anche quelle citazioni che ci sono dirette dalla Medea di Euripide in una più complessiva messa in scena rappresentazione e riflessione autoriale sul linguaggio il linguaggio dei bambini ma anche soprattutto il linguaggio riferendoci alla tragedia di Euripide degli adulti e degli adulti in fase di separazione cioè c'è questo primo elemento che secondo me è cruciale e determina la buona riuscita e la possibilità anche di riproporla adesso secondo me ma ci verrò forse in seguito su questo cioè si parte da una riflessione sul linguaggio punto numero due questa riflessione e lo schema della tragedia che è riutilizzato anche proprio dal punto di vista delle dell'utilizzo del prologo dell'utilizzo dei diversi collocati all'interno della tragedia in modo speculare alla nostra PS sono inseriti in uno schema diegetico che secondo me narrativo diegetico che secondo me è fatto apposta per essere noto e riconosciuto e familiare per i bambini cioè la tragedia viene inserita in una con delle scelte proprio drammaturgiche di dialoghi di geometrie della PS in uno schema in cui i bambini perché nasce da un racconto da un laboratorio come ci ha raccontato Susan Austin che i bambini riconoscono che sentono proprio che hanno costruito che hanno creato con dei luoghi che sono loro familiari e in terzo luogo questa inserzione linguistica dentro ad una diegesia ad un racconto noto e familiare ai bambini vede secondo me in modo davvero intelligentissimo e straordinario perché io non ho mai letto nulla di simile l'inserzione anche di luoghi ed elementi e oggetti assenti dalla tragedia greca ma di nuovo riconoscibili scelti e noti ai bambini che sono protagonisti di questa 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 faccio un esempio per spiegarmi e perché secondo me poi parla sempre meglio il libro parla sempre meglio l'autore di chi lo interpreta o lo critica o lo traduce il prologo il prologo è un elemento che nel greco di Euripide c'è tra l'altro un prologo a due scene parla la nutrice e il prologo serve proprio per collocare la tragedia e le scelte drammaturgiche che verranno poi valutate dal pubblico nell'Atene del quinto secolo dentro a quel materiale magmatico mitico di cui la professoressa Fornaro diceva c'è anche nei figli di Medea un prologo ma è un prologo che secondo me testimonia questi tre aspetti in modo precisissimo perché è un prologo che non ho tradotto io perché è in svedese ma sul quale ci siamo soffermati con Laura Cangemi è letto con una lingua un tono una scelta di parole e una scelta proprio di organizzazione del discorso evidentemente infantile che ha dei punti tra l'altro tipograficamente segnalati in maiuscolo che sono puramente e per scelta infantili e soprattutto inizia a inserire degli elementi degli oggetti veri propri che poi saranno oggetti scenici cioè è una cosa anche straordinaria questa da questo punto di vista dentro però allo schema diegetico se ci pensate della favola cioè c'era una volta un principe greco che si chiamava Giasone così inizia la nostra pièce e aveva una stupenda nave magica che si chiamava Argo con cui navigava tra le isole greche e aveva un'avventura dopo l'altra con queste parole inizia la nostra pièce laddove la tragedia di Euripide inizia con quel periodo ipotetico dell'irrealtà che ci dice o in forma di di lamentela in forma di piagnisteo volesse il cielo che quella nave non fosse mai partita non fosse mai andata in Colchide e l'esperienza degli argonauti non avesse mai portato Medea a quello che ora andiamo a raccontarvi e continua il prologo di Austin Elisander e dei ragazzi e dei bambini che l'hanno costruito insieme ai dramaturghi parlando di Drago Sputafuoco che è un altro elemento mitico il Drago che preserva il vello d'oro parlando Drago che tra l'altro poi verrà utilizzato come regalo più avanti in una delle visite del padre separato che porta il regalo ai bambini fa una una similitudine secondo me straordinaria le onde parlando della nave degli argonauti sferzate sollevavano schiuma come panna montata e poi navigarono insieme da un'isola all'altra ed ebbero tante avventure ed erano felici utilizzando la lingua dei bambini oggetti e e situazioni consone e riconosciute e riconoscibili dai bambini e inserendo sotto forma di di racconto della della balia quasi come si diceva all'inizio il prologo che ci colloca nella situazione di crisi che poi immediatamente con il coro e con i primi versi di Medea è immediatamente connotata tra l'altro da un cambio di registro linguistico quindi secondo me venendo proprio al pratico e a quello che mi sono trovato davanti anche per tradurre insieme a Laura Cangemi questa pièce riesce in particolare per questi tre motivi ovvero alla base della rielaborazione c'è una riflessione linguistica la riflessione linguistica si inserisce in uno schema diegetico che è pensato per i bambini e che è costruito in forma laboratoriale e dentro a questo schema anche come oggetti proprio di scena e questo magari me lo lascio per la conclusione del mio intervento anche come oggetti di scena c'è la scelta quasi a modi di continua deissi di continua riferimento deittico alle cose che succedono in scena e alla rappresentazione di un mondo che è da un lato costruito dai bambini dall'altro alieno dai bambini perché dentro alla crisi poi si riconoscono si riconoscono le particolarità e le specifiche del perché questa sia una tragedia scritta e pensata dalla parte dei bambini spero di essere stato chiaro nel caso poi concludo sulla 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 rappresentazione proprio che è quello che mi piacerebbe poi vedere in futuro tra l'altro Federica vuoi andare tu se noi introduciamo visto il tempo introduciamo visto direi sì introduciamo un articolo che ci hanno mandato da qualche settimana fa proprio in occasione di questo ciclo Giorgio Testa che per noi nel mondo del teatro ragazzi per chi si occupa di teatro e infanzia è una sorta di padre di padre spirituale di guida diciamo un esperto un pedagogista che si è occupato per tutta la vita di didattica della visione lui ha fondato ai tempi quando c'era Leti la saletta dello spettatore e ha fatto dei percorsi appunto sia di ricerca che di formazione concreta sulla visione dello spettacolo sia nel bambino spettatore sia nell'accompagnatore o in chi programma o in chi produce il teatro ragazzi quindi diciamo così è uno studioso che si è occupato per tutta la vita della relazione tra teatro e ragazzi lui il suo hobby diciamo così la sua passione è proprio la tragedia greca e nell'88 per un convegno sul bambino spettatore gli chiesero di fare uno studio sui bambini nella tragedia greca quindi ha rispolverato questo articolo quasi 30 anni fa ce l'ha mandato e devo dire che abbiamo trovato delle cose molto interessanti intanto lui dice io mi occupo di bambini in tragedia perché poi il suo lavoro per anni è stato anche quello di fare il pedagogista nell'ASL di Roma e ho cercato i bambini nella tragedia allora bambini nella tragedia greca ce ne sono pochissimi e quando ci sono e lui questo è un problema che pone in questo articolo che magari speriamo di pubblicare in qualche modo nelle prossime settimane e quando e quando ci sono questi bambini naturalmente hanno uno status diverso da quello che per noi oggi è l'infanzia è chiaro che nella tragedia nella Grecia antica il bambino non era un soggetto autonomo quindi no raramente esprime pensieri raramente è un soggetto che agisce all'interno della tragedia all'interno di questa disamina che fa delle tragedie in cui individua alcune pochissime figure di infanti tra cui appunto i figli di Medea di cui si sente solo la voce quando si accorgono che stanno per essere uccisi lui parla a un certo punto si chiede però nella tragedia se il bambino non ha uno status sociale autonomo che ne contempli l'autonomia e così anche per il singolo e così anche per il personaggio in altri termini lui dice come appare all'adulto il bambino che è stato cioè c'è nella tragedia l'infanzia dell'eroe allora lui ovviamente lascia come dire ci lascia con questa domanda e si augura anche che gli studiosi nel futuro se ne occupino perché si chiede questo cioè forse sarebbe interessante più che indagare i bambini nella tragedia indagare l'infanzia che condiziona poi gli adulti nella tragedia che gli fa diventare eroi o che gli fa diventare l'infanzia di Edipo l'infanzia di Antigone c'è un altro piccolo pezzo che lui dice mi dispiace non essermi occupato che non mi abbiano chiesto di occuparmi di adolescenti perché invece ci sono tantissimi adolescenti tra cui la stessa Antigone che è un adolescente quindi lui si chiede questo bambino si trova nella tragedia attraverso gli adulti che vengono raccontati e quindi non so io ho visto appunto anche un po' le riflessioni che sono state fatte prima ci piaceva l'idea di reintrodurre queste domande di Giorgio di porgerle qui allora io dunque queste domande sono domande di un interesse grandissimo a cui in pratica dovremmo fare un ciclo no? perché no? sarebbe interessante è chiaro che io credo che sia stato pubblicato comunque quell'articolo che vi ringrazio di avermi fatto conoscere però penso che sia penso che sia stato pubblicato in ogni caso una ripubblicazione possiamo farla proprio su visioni del tragico se volete quindi perché è un articolo interessante dal punto di vista di un pedagogista che però si addentra nel nel testo delle tragedie greche ponendosi una domanda estremamente attuale vista bibliografico ovviamente per chi si occupa di tragedia greca sono passati 30 anni mi sembra da quell'articolo e sono state scritte varie cose e la funzione proprio teatrale dei bambini nella nella tragedia greca è stata messa in luce da diversi da diversi da diversi articoli e libri non tutti soprattutto di area anglosassone non tutti definitivi io credo che si debbano dire delle cose però le dico appunto pensando che ci siano delle persone che ci stanno ascoltando e che magari ci può essere una prosecuzione a questa chiacchierata allora innanzitutto non è proprio del tutto vero che i bambini non ci siano nella tragedia greca e anche nella letteratura greca precedente alla precedente alla tragedia ma limitiamoci alla tragedia diciamo che certamente si vede nei tre tragediografi che come ha detto giustamente Federico ci sono sostanzialmente rimasti si vede un accrescersi della presenza dei bambini in scena quindi quasi del tutto assenti in Eschilo sono invece molto presenti in Euripide cioè appunto l'autore di Medea non è un caso che Medea uccide i figli perché è nella poetica di questo autore che è lo studio di alcune figure che potremmo definire liminali dal punto di vista drammaturgico come presenza scenica ma non liminali all'interno del racconto perché una Medea senza l'uccisione dei figli non è Medea eppure i bambini sono in scena per pochissimo tempo e tra l'altro c'è un'insoluta questione che non so se sarà mai possibile sciogliere se questi bambini venivano uccisi in scena o no perché gli studiosi si dividono ancora cioè secondo alcuni si sentono soltanto le voci di aiuto da parte dei figli di Medea che hanno capito che stanno per essere uccisi ma è possibile che o in un'altra versione o in una versione precedente non di Euripide oppure nella stessa versione di Euripide i bambini fossero uccisi in scena qui c'è tutto un discorso molto complesso su quello che era un tabù di tipo non tanto o non solo religioso ma anche emotivo nel presentare l'omicidio in scena però ecco questo è un punto interrogativo ci sono alcuni studiosi che con tutte le ragioni dicono che questi bambini quindi pensate che spettacolo poteva essere però è anche vero quindi non è vero che i bambini non ci sono nella scena straziante anche quando non parlano hanno un ruolo incredibilmente importante nella scena finale di una tragedia come l'Alcesti in cui abbiamo una donna che sta morendo non so se il pubblico sa appunto il mito uno tra i miti più diciamo meno femministi che ci vengono dall'antichità classica perché Alcesti consente di morire per concedere al marito di più vita insomma quindi di morire al posto del marito e ci sono e dall'addio ai due figli e questi figli non parlano però sono lì sono presenti e sono assolutamente indispensabili per capire in che cosa consiste la tragedia di questa donna che rinuncia non soltanto alla vita ma rinuncia ad essere madre cioè alla ragione fondamentale dell'essere donna nell'antichità classica questo per fare solo alcuni esempi quindi non è vero che non ci siano Euripide le tragedie di Euripide hanno in questo un ruolo importantissimo che andrebbe studiato e andrebbero rilette ma noi dobbiamo anche cambiare un po' idea su cosa significa essere bambini e cosa significa sentire da bambini io mi ricordo voi siete legati ad una città a cui anch'io sono legata pur non avendoci mai vissuto a Bologna di un romanzo di ormai ahimè appunto più di trent'anni fa di Simona Vinci scrittrice bolognese che insomma abbastanza nota alla mia generazione che si intitolava Dei bambini non si sa niente ed era fu pubblicato da Einao di Stile Libero era una raccolta era un romanzo ma in realtà più una raccolta di racconti terribili in cui quella oggi si usa il termine ereditato dall'americano baby gang ma si parlava della periferia bolognese e c'erano questi non adolescenti ma bambini di 6-7 anni che facevano cose inenerrabili in questi racconti e commettevano crimini impensabili non attribuibili alla all'ingenuità diciamo idealistica del bambino e questi racconti di Simona Vinci devono essere contestualizzati in tutto una società che scopriva la pericolosità del bambino ma l'aveva scoperto la tragedia greca prima è vero che i bambini sono diciamo poco presenti nel senso c'è una bella espressione di testa in quell'articolo lui dice che sono presenze perché non parlano ma la loro presenza è terribile questi bambini sono pericolosi hanno una pericolosità nel futuro nel futuro perché quando vengono tolti di mezzo i bambini è perché si sa che porteranno porteranno vendetta porteranno sangue c'è compare nell'ifigenia in aulide nelle braccia della mamma la terribile clitennestra Oreste è questa bella scenetta che sembra la mamma che culla il bambino e in realtà è una scena terribile perché lì lo spettatore intuiva che quel bambino avrebbe ucciso la madre e sarebbe stato tra l'altro il vendicatore di tutta la stirpe quindi voglio dire l'idea c'è anche qui a livello linguistico uno dei giochi di parole bambino si può dire in varie maniere in greco il greco antico è una lingua che ha un lessico varissimo una delle maniere è tecnon che in realtà viene etimologicamente dal verbo che vuol dire generale ticto e quindi significa figlio bambino nel senso di figlio ma uno dei giochi che si ritrova nella letteratura con questa parola è con una parola dal significato antitetico cteino che vuol dire uccidere cioè si gioca anche fonicamente con la parola bambino e con i due verbi che si contrappongono quello della generazione e quello dell'uccisione quindi quest'idea del bambino ingenuo non è così cioè noi siamo ora ci stiamo chiedendo noi oggi se un bambino che ovviamente ecco questo è un discrimine importante deve saper parlare e leggere quindi di 6-7 anni 8 anni comunque deve saper parlare perché altrimenti il laboratorio con il teatro di parola mi sembra non può avere non può avere luogo se un bambino può essere impressionato dal racconto di Edipo che si acceca quando noi vediamo quello che viene trasmesso sui social su Instagram sui video in cui scoppia la rabbia del lockdown ecco io non credo che la tragedia greca sia proprio così cioè riesca ad impressionare i propri bambini e la nostra idea che non è neanche l'idea greca è di bambino che va un po' corretta e questo la letteratura la letteratura contemporanea ci dice ormai da tanto tempo che va corretta appunto e che dei bambini dobbiamo sapere delle cose e se li vogliamo tra l'altro conoscere ed aiutare e comunque educare se pensiamo di avere una funzione rispetto a questi bambini per cui il discorso è un po' più complesso io solo per giustizia a Giorgio Testa devo dire che lui dice che non ci sono i bambini con lo status di infanzia contemporaneo così come noi pensiamo il bambino quindi cioè anzi tutti i bambini lui li ha proprio catalogati quindi è il bambino con la nostra idea di infanzia ecco solo questo Federica ma vedo che sono le sette quindi forse andrei verso una conclusione Federico prima ha riportato un'esperienza di teatro a scuola mi piaceva magari tornare su questo anche perché ci sono due modi di rapportarsi anche da giovani penso anche a me alle tragedie al mito quindi Federica è una connessione può capitare di leggerli insomma dai non riuscite a sentirmi e ti riferisco e l'ho perso un pezzettino sì abbiamo perso un pezzettino d'accordo no dicevo che ci sono due modi di scoprire questi testi e questi miti attraverso i testi quindi dai 13 14 anni comunque può capitare di leggerli ma anche prima in realtà nelle traduzioni che esistono oppure appunto facendosi raccontare la storia il plot quindi sono due modi molto diversi perché il contatto con il testo è per questo che appunto citavo l'esperienza a scuola che ci raccontava Federico per chiudere sì ma magari dico qualcosa io per poi lasciare la conclusione alla professoressa Fornaro intanto di nuovo ringraziandovi per questa occasione di discussione veramente che mi ha di nuovo da secondo me la cifra il senso di tutti i dialoghi che ci sono stati su questo su questo testo che evidentemente se fa così dialogare ha un valore speciale mi pare mi pare evidente concordo sul fatto che sia no per certi aspetti la risposta la domanda se i bambini siano presenti nella tragedia greca ma sì per molti altri cioè l'assenza dal palcoscenico l'assenza dalla 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 drammaturgia vera e propria non significa un'assenza o non significa una poca rilevanza nell'economia generale complessiva diciamo così di molte delle tragedie in particolare delle Euripidee mi viene in mente una cosa e concludo cercando di argomentare questo pensiero penso che la chiave di volta per far tornare la tragedia questa tragedia e alcuni elementi diciamo della tragedia greca in un linguaggio comprensibile negli schemi condivisibili dai bambini sia proprio la chiave di volta della rappresentazione vera e propria teatrale del laboratorio di teatro e della rappresentazione poi finale diciamo così perché se è vero da un lato che come si è detto negli interventi precedenti forse qualcosa ancora ci sfugge dei bambini e forse abbiamo ancora delle idee di una pedagogia secondo me in realtà abbastanza corretta negli ultimi anni ma che diciamo così aveva anche degli elementi di distorsione notevoli è anche vero che esperimenti come quello fatto a metà degli anni settanta dall'Aosta e dall'Isander sono degli esperimenti che vanno tutti in un altro senso cioè mettono al centro sia della riflessione che poi della rappresentazione il bambino che viene ascoltato e che plasma che disegna che ricostruisce per certi aspetti il mito e che partono secondo me dalla negazione di un assunto che c'è o meglio dalla precisazione di un assunto che c'è proprio alla fine del prologo della Medea di Euripide lo leggo perché è particolare per tanti aspetti leggo la traduzione dell'Ester Cerbo che noi abbiamo deciso di ritradurre non chiaramente per rimane secondo me la traduzione migliore in assoluto della Medea perché ci andavo per un vezzo quanto perché eravamo coscienti e Federica per prima ce l'ha proposto del senso che dal punto di vista linguistico aveva Euripide nella nostra pièce comunque leggo la traduzione dell'Acerbo che dice siamo al verso 46 per chi volesse ma ecco i bambini che hanno finito le loro corse ecco che giungono qui senza avere affatto coscienza dei mali della madre un animo giovane non ama soffrire questa è la conclusione della prima scena diciamo del prologo che a due scene poi si inserirà anche Medea tra l'altro in cui intanto i bambini arrivano perché c'è un deitico chiarissimo che è Oide Paides quindi sono qui i bambini sta dicendo l'attore sono arrivati hanno finito Peppa Omenoi hanno terminato fanno una pausa dalle loro corse e arrivano quindi noi interrompiamo il discorso perché i bambini non possono avere nel loro nos nella loro nos nella loro testa le sofferenze della madre non è roba per loro non hanno idea di quanto soffra la madre perché nea gar frontis uc algein filei dice la nutrice una mente diciamo così fresca giovane di bambino non ama soffrire ecco io penso che non so ma probabilmente non volutamente probabilmente è una mia superfettazione al discorso però io penso che la scelta di Austin Elisander parta da qui un animo giovane sicuramente non ama soffrire ma un animo giovane sicuramente soffre cioè non amare non amare la sofferenza non vuol dire non soffrire vuol dire anzi soffrire il doppio proprio perché si ha una mente fresca si ha una mente giovane si ha un animo uno spirito giovane che non vuole non ama soffrire e partendo dal riconoscimento secondo me della sofferenza di quel 60% loro dicono nel 1975 nella classe in cui abbiamo lavorato il 60% dei figli dei figli dei nostri ragazzini con cui facevamo lo spettacolo teatrale erano figli di genitori separati e noi lo abbiamo imparato da loro partendo dal riconoscimento della possibilità della sofferenza della possibilità anche per un bambino della riflessione sulla sofferenza loro hanno costruito un esperimento e una e una e una e una sperimentazione secondo me riuscitissima se ancora oggi ne parliamo in questi termini teatrale e laboratoriale proprio perché si dà a fronte di quella negazione che c'è in Euripide la possibilità di argomentare di creare delle storie nuove e di e di e di cambiare parola che non amo la narrazione sulla sofferenza sulla 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 separazione sulle crisi familiare vedendole a partire dai bambini questo perché questo perché secondo me ma Osten e Lisander lo facevano di mestiere e noi secondo poi io non mi occupo di teatro però ogni tanto l'ho come un po' intuito anche da alcune cose che ho letto possiamo riprendere questa strada che è la strada secondo me la via maestra se e solo se continueremo e inizieremo in modo serio e capillare a intendere le ricezioni varie della tragedia greca in generale del mito classico come in primo luogo spettacoli teatrali e operazioni di rappresentazione sul palco di temi che sono in realtà universali e valevano allora come valgono oggi in termini sicuro diversi ma con dei fili delle dorsali costitutive che rimangono le stesse come rappresentazioni teatrali mi piace finire non dovendomi ripetere su quanto secondo me sia riuscita questa operazione ai nostri svedesi citando un articolo molto poco citato perché l'autore non è né uno scienziato né un filologo né nulla né un esperto di teatro peraltro del 1988 che è peraltro lo stesso anno dell'articolo di test è l'autore Pier Vittorio Tondelli il libro è un weekend postmoderno che è un libro che si cita molto poco perché è un libro tra l'altro frammentario si riferisce a una rappresentazione delle troiane a cui penso lui abbia assistito a Firenze di Thierry Salmon che è stato un grande drammaturgo belga e in cui lui dice rappresentazione delle troiane alcuni studenti a un certo punto quell'articolo è molto bello è abbastanza completo intorno a me è una recensione hanno questi studenti delle traduzioni del testo di Euripide nel tentativo di rintracciare le battute di Ecubo o di Cassandra la loro insegnante ha una piccola lezione attascabile e ogni volta che mi giro un po' per seguire un personaggio che corre dal fondo della sala la vedo sempre china sul libro e penso per un attimo che forse ha preparato molto bene i suoi allievi alla rappresentazione ma che ha completamente sbagliato il bersaglio perché raccontando la trama narrando gli antefatti discutendo la metrica li ha preparati a un evento letterario e non scenico a qualcosa di scritto e non di parlato vissuto cantato suonato colorato profumato sudato e quando i ragazzi allungano il braccio e indicano i personaggi quella Elena no è andromaca dimostrano con quel loro indice puntato che seguono lo spettacolo come una pagina scritta di cui stanno seguendo immaginari righe testuali io penso che se da parte degli studiosi che non devono rinunciare al tecnicismo della materia per nessun motivo al mondo e da parte dei drammaturghi e di chi si interessa al mondo dell'infanzia al mondo dell'adolescenza che sta soffrendo tantissimo anche questo è un fatto ma ne parleremo magari in un'altra occasione si trova un punto di incontro comune e non punti di divergenza e di separazione e penso che le tragedie greche e il mito greco possano avere ancora tanti altri momenti belli di ricezione come quello di cui abbiamo discusso in questi tempi grazie di cuore e lascio a voi le conclusioni io credo che abbiamo sforato tantissimo ma potremmo andare avanti ancora per un'ora ma in realtà sono le 7.10 chiamo le mie colleghe Silvia e Lucia perché temo che a un certo punto come dire qualcuno ci rapisca e ci prende via e così senza interrompere senza poter chiudere con un saluto questo incontro e che dire è stato un incontro densissimo davvero sotera cioè si potrebbe parlare a lungo di questo devo dire che per me oggi l'altezza era vertiginosa l'ho confesso perché non ho studi classici alle spalle e quindi come dire mi occupo di teatro ragazzi prevalentemente di teatro contemporaneo quindi davvero è stato un incontro che ha aperto mille finestre non so quanto tempo abbiamo Silvia Lucia cioè possiamo noi siamo anarchiche tu lo sai finché una cosa è una cosa regge rispetto posso avere due minuti per ringraziare fondamentalmente per ringraziare e poi come corollario brevissimo a quello che ha già detto Federico e a quello che ha detto adesso Cira noi abbiamo parlato poco sarebbe bello continuare a parlare di questo prodotto drammaturgico sono importanti due cose allora una è sicuramente che quando parliamo di teatro qualsiasi teatro che non soltanto quello classico antico greco anche Shakespeare eccetera parliamo di qualcosa che viene messo in scena che appunto è gesto è parola e non è il testo il teatro di parola e il testo è un aspetto è solo uno degli aspetti di un fenomeno molto molto più complesso e questo credo che appunto per gli educatori sia fondamentale d'altro canto appunto non me la sento né di condannare né di del tutto questa professoressa che nell'88 insomma Tondelli guardava descriveva in quella maniera nel senso che credo che questo vada inserito in una cornice molto più ampia cioè il valore che noi diamo ai classici greci latini e classici in generale alla tradizione testuale quindi letteraria e a quella drammatica all'interno di questa tradizione ha molto a che vedere con quello che noi pensiamo con la nostra idea di educazione quindi tutto questo non può cioè se noi pensiamo che l'educazione sia quello vuol dire che i bambini vuol dire che gli adolescenti vuol dire che a scuola ma sin dalle primissime fasi questi questi testi in qualche maniera devono essere portati devono essere portati devono essere fruiti perché altrimenti non si cresce se questa per noi è l'educazione se questa per noi è la paideia allora non si non si non si scappa se invece abbracciamo un'idea e così formiamo anche chi può capire poi le serie televisive di Netflix perché chi è entrato nel meccanismo seriale del mito greco poi non avrà nessuna difficoltà a capire magari anche a diventare un autore Netflix o chissà che cosa chi invece non ha idea di che cosa sia la serialità narrativa non ha gli strumenti proprio per comprendere nemmeno quello che gli viene dato anche in un certo tipo di spettacolarità che non è necessariamente quella 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 teare ma cosa intendiamo per educazione se invece vogliamo una società di automi e di tecnici che non ridiscutono criticamente e sanno riscrivere un mito dal loro punto di vista e allora tutto questo non ci serve a niente ma credo che qui siamo in un altro noi ecco qui su Zoom siamo decisamente in un altro in un altro ambiente penso assolutamente sì Silvia vuoi dire qualcosa? no beh come sempre è molto è molto dico la parola divertente perché credo che quando uno sta bene è giusto che si usi anche la parola divertente mi è piaciuto molto il lessico mi piacciono le parole complicate mi piacciono che le parole abbiano un peso per cui ringrazio sicuramente Sette e Federico anche per questa capacità di non rinunciare alle parole che sono necessarie e credo che dell'argomento di oggi quello che mi ha veramente colpito è il tema del riconoscimento credo che è vero che tutto può essere pensato se vuoi avere una funzione verso i bambini partendo da un riconoscimento del riconoscimento del fatto che i bambini sentono diceva Sotera che cosa sentono bisogna farsi che cosa sentono che cosa vuol dire ecco riconoscere questo percorso nei bambini credo sia al centro di tutti i processi artistici che noi pensiamo di dover rivolgere ai bambini nel teatro nella letteratura anche in Netflix sperabilmente che ci siano autori che si pongono questo questo obiettivo ecco perché comunque l'infanzia mangia miti e crea miti che indipendentemente da saperlo che lo sta facendo ecco quindi grazie è sempre molto bello ci vediamo giovedì 27 stavolta ho studiato per l'ultimo incontro poi l'ultimo di una serie l'ultimo di questa serie assolutamente questo ciclo ci ha fatto venire voglia di andare avanti e insomma facciamo la seconda stagione appunto a proposito assolutamente sì per cui Federico Sotera preparatevi perché appunto abbiamo la seconda stagione esatto esatto argomenti mi sembra che ce ne siano e siano veramente molto molto profondi e spero che contribuiamo al fatto che agli artisti stanno sentendo di far venire magari la voglia la voglia di fare qualcosa di rappresentativo ecco spero che questi cicli abbiano nutrito anche la curiosità degli artisti non solo verso l'infanzia ma anche verso questi testi che sono materia appunto magmatica che possono utilizzare quindi grazie grazie a voi grazie a Federica Federico Sotera quindi non è come dire non è un saluto definitivo perché sicuramente tante cose le riprenderemo siamo sicure che insomma questo sarà un percorso che andrà avanti quindi vi ringraziamo per la ricchezza degli argomenti dei contenuti che ci avete portato oggi e insomma chi ci segue diamo appuntamento al 27 maggio con l'incontro di chiusura con gli altri autori italiani già pubblicati dalla Collana e Gabbiani con cui insomma proveremo a chiudere questo primo ciclo grazie buona serata a tutti buona serata grazie 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 a tutti.